Ebbè sì, in effetti, quando Fonzi nella prima puntata della quinta stagione di Happy Days sta facendo scinautico, si trova uno squalo davanti e lui salta con questi meravigliosi sci sopra lo squalo, ok, da quel momento la serie ha avuto un crollo. Non che non ci sia stato più il pubblico, però ha cominciato a non amare più la serie come l'amava prima, perché Fonzi quella volta ha fatto davvero qualcosa di esagerato, ma troppo. Ecco, da quel momento in poi, quando una serie perde interesse, perde forza, fa qualcosa di esagerato, si dice ha fatto il salto dello squalo. Nasce tutto dalla puntata di Happy Days. Un esempio, Grace Anatomy a un certo punto, in una puntata, tutti i protagonisti, nonostante accadano cose drammatiche, si mettono a cantare, diventa una specie di musical. Cioè, la gente quella roba lì l'ha odiata e a quel punto Grace Anatomy ha preso un tunnel verso il nulla. Stessa cosa per esempio per il Dottor House, no? C'è una puntata in cui lui si fa di una droga pazzesca, si mette lì e si opera la gamba da solo. Strafatto, il Dottor House si opera la gamba da solo. La gente, questa roba qui, non è piaciuta. E poi tante altre, anche Lost ha fatto più salti dello squalo. Ma questo non vale solo per le serie tv, vale anche per il cinema. Jar Jar Binks, il personaggio di Guerre Stellari, quando viene fuori nella minaccia a fantasma, la gente lo ha odiato, fa cagare, fa schifo. Se ne è accorto anche George Lucas, tant'è vero che poi ha ridotto la presenza di questo personaggio nei due film successivi. Oppure Indiana Jones, al quarto film, quando esplode l'atomica, radiazioni ovunque, distruzioni ovunque, lui si salva la vita perché si rifugia dentro un frigo. Cioè, non va bene. Indiana Jones è il mio idolo, però non va bene. Cioè, insomma, comunque ha fatto il salto dello squalo anche in quel caso lì. Quindi ogni volta che una serie esagera o fa qualcosa che non va, lì si definisce salto nello squalo. E... grazie Fonsi!